Inizialmente scambiato per un giardiniere mentre era intento a scavare in un'aiuola, in realtà stava solo cercando di recuperare la droga. I residenti di piazza Gasparotto, in un nuovo episodio di spaccio, insospettiti hanno chiamato la polizia dopo aver notato un coltello che spuntava dalle mani del nigeriano intento a scavare. Gli agenti giunti sul posto hanno bloccato lo straniero che si stava servendo della lama per scavare la terra e recuperare la droga nascosta in un'aiuola. Fermato è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana e 250 euro in contanti per il 27enne nigeriano e stanno scattate le manette.